Uè, non fare il pollo! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio nuovo codice CREATOR. Clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci XIUDERONE. DAIE! Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi ci siamo! Teaser numero 4, ultimo teaser è arrivato in questo momento ed è ragazzi assurdo! Vediamoli al volo, questo è quello di tre giorni fa, l'uncino dei pirati, questo è quello dell'altro ieri, il serpente, questo è quello di ieri, la tigre, beh ragazzi state pronti, guardate un po', sbronk! Questo è il teaser di oggi, raga c'è una banana, raga quella là è una banana raga, c'è una banana! Le quattro immagini messe insieme formano la schermata iniziale completa della season numero 8. Non voglio sapere perché c'è una banana, ma vi ricordo che domani mattina alle 9 inizieremo la mega live per arrivare insieme alla season 8. Io vi ringrazio per avere guardato il video, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale, condividetelo, noi ci vediamo alle 17 in live, ciao! E non parte mai l'altro!